Benvenuti alle news quotidiane del Corriere di Sciacca. Oggi è giovedì 3 maggio. Sarebbe un uomo con disturbi psichici, l'autore dei danni provocati questa mattina alla vettura del sindaco di Ribera, Carmelo Pace. L'episodio si è verificato dopo che il primo cittadino aveva parcheggiato l'auto nei pressi del palazzo municipale. La vettura è stata presa a calci, i fari sono stati distrutti. La persona individuata avrebbe agito allo stesso modo anche nei giorni scorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Pace si è detto dispiaciuto per le conseguenze e anche per le motivazioni che hanno indotto la persona evidentemente malata ad agire in questo modo. L'imposta di soggiorno a Sciacca torna ad essere terreno di scontro politico. Il consigliere comunale Fabio Termine, criticando l'assessore al turismo Filippo Bellanca, lo paragona al suo predecessore Salvatore Monte, almeno per le modalità di comportamento sull'imposta di soggiorno sull'utilizzo dei proventi, che per il 2018 saranno di circa un milione di euro dopo l'aumento scattato a gennaio. L'iniziativa di Mizzica, che ha accusato Bellanca di utilizzare il metodo Monte, così è stato definito, ma anche del Movimento 5 Stelle, che ieri aveva sollecitato la riunione del tavolo tecnico e proposto una migliore gestione delle risorse provenienti da tale imposta, hanno scatenato un acceso di battito politico. La permanente chiusura del campo di calcio a Gioffre e le condizioni di abbandono dello stadio Gurrera, al centro di un'iniziativa del consigliere comunale Giuseppe Miglioti, il quale suggerisce al sindaco Francesca Valenti di valutare tra i progetti da presentare nella nuova finestra dei fondi europei, anche uno che prevede la sostituzione del manto erboso del Gurrera con un manto in erba sintetica e la sostituzione, sempre con erba sintetica, dell'attuale terra battuta del campo alternativo Giuffre. Miglioti sostiene che ad un anno dall'insediamento l'amministrazione comunale non ha lasciato il segno per interventi in favore dello sport. Finalmente pare abbia fine la lunga storia dell'apertura della nuova bretella che collega solo in entrata la strada statale 115 con la contrada Bordea. Il sindaco Francesca Valenti questa mattina ha avuto una riunione con i dirigenti dell'ANAS e riferito che entro dieci giorni ci sarà l'apertura. Il sindaco ha detto di aver trovato una soluzione condivisa e l'ANAS invierà al comune un disciplinare entro dieci giorni per poter procedere a tale intervento. La bretella con tutti gli accessori per la sicurezza stradale è stata realizzata dai privati in sinergia con il comune. Ancora comune di Sciacca, completate le operazioni di rimozione dei pali della pubblica illuminazione che si trovano sul ponte che collega via Ovidio alla via Modigliani, personale della ditta Exgem, oggi City Greenlight, che svolge il servizio di manutenzione degli impianti, ha completato i lavori scaturiti da un accertamento tecnico e accelerati dopo il cedimento di un palo avvenuto dieci giorni fa. Da un recente monitoraggio è emerso che c'è una situazione di criticità che è stata riscontrata corrosione alla base di tutti i pali presenti sul ponte. C'è quindi una situazione di pericolo sull'intero impianto e non si poteva fare diversamente, così come riferiscono gli uffici. I pali saranno sostituiti temporaneamente da fari collocati sul guardrail. Tutto per oggi, restate su Corriere di Sciacca.it per le altre notizie e ulteriori approfondimenti.